Musica Bella a tutti ragazzi, qui è la CPMD TV che vi parla, io sono Jeff e oggi siamo su Clash Royale per uno spacchettamento no jamming Allora, direi di iniziare subito con il primo baule, scattamento di arena 5, però provando nuovi deck sono stato retrocesso E vabbè, poi rimedieremo Però iniziamo subito con il primo baule, avremo il baule omaggio, ecco, 53 di oro, 2 barbari buoni, 5 orda di sgherri E poi, secondo baule omaggio, 45 di oro, 5 orda di sgherri, sfera infuocata Baule della corona, subito Oro, 306 Gemme, 2 8 barbari 9 spiriti del fuoco 24 scarica buono 5 razzi, bene Prima, i baule oro, avanti, 110 oro 1 freccia 5 tesle 12 cannoni 2 mini pecca 113 di oro 5 spiriti del fuoco 7 sgherri 8 bombaroli 3 stregoni Avanti con il baule d'oro 136 di oro 2 spiriti del fuoco 17 sgherri 3 stregoni Bene così E' un arco X, attenzione, arco X, però anche se non lo uso E' un'epica E ora, arriva il momento clou del video Aprire la magica al chest E sperare di trovare la leggendaria Ecco 339 di oro 90 di oro 7 cannoni 16 tesle 3 sgherri 23 sgherri 4 moschettieri 8 domatori E ora si esce l'epica Esce l'epica, attenzione Attenzione arco X E? No, mongolfiera Peccato, tutto questo tempo Per una mongolfiera Vabbè, per oggi è tutto Spero che il video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace E noi ci vediamo nel prossimo video E noi ci vediamo nel prossimo video E noi ce ne vediamo nel prossimo video Grazie a tutti.